Ciao a tutti, mi chiamo Maria Chiara e lavoro all'interno del mio laboratorio Fiore d'Argilla. Mi trovo all'interno dell'azienda di Nicola, tra le dolci colline toscane. Tutti i miei oggetti mi sono creati interamente a mano dall'inizio alla fine. Amo soprattutto creare oggetti di tutto quotidiano perché mi piace l'idea che possano accompagnare le vostre giornate e rallegrare le vostre case. Li potete trovare su Uncrafter. Ciao a tutti!